Ciao amici del centroverde oggi siamo a presentarvi la nuova gamma di prodotti a batteria Honda. Honda è entrata nel mondo della batteria con tre prodotti a uso sicuramente domestico che non possono mancare nel vostro rimessaggio. Un soffiatore, un tagliasiepi e un decespugliatore. Queste tre macchine a batteria non hanno niente da invidiare ai tradizionali motori a scoppio. Questi prodotti hanno dalla loro parte sicuramente la particità nell'utilizzo. Non abbiamo più un motore a scoppio, riduciamo il peso e abbiamo una manutenzione che è minima. L'importante è ricaricare la batteria. Batterie che troviamo in due formati da 2 ampere o 4 ampere con durate di ricarica differenti a seconda del caricatore che vado a scegliere, un caricatore rapido o un caricatore normale. Per intenderci un caricatore rapido e una batteria da 2 ampere me la ricarica in 25 minuti, mentre uno normale me la porta a 50 minuti. Fantastica anche la soluzione tagliasiepi che in 2 kg e 300 g mi dà una barra di 61 cm. E poi abbiamo il decespugliatore, paragonabile a un 25 cc motore a scoppio, sempre a batteria. Testina a sistema tap and go Honda, dove al massimo regime dei giri della macchina batto a terra, fuoriesce il filo e questa lamella va a tagliarmi il filo in eccesso. Ecco i due caricabatterie, molto facili e di pratico utilizzo. Il caricatore rapido riesce a caricarmi una batteria da 2 ampere in 25 minuti, laddove il caricatore normale me la porta a 50 minuti il tempo di ricarica. Perché scegliere i prodotti a batteria Honda? Bassa rumorosità, bassa manutenzione, impatto ambientale minimo e anche per noi stessi sicuramente una forma di rispetto nel non andare a respirare gas nocivi. Per maggiore informazione su questi articoli andate nel nostro sito e cliccate nel link in descrizione.